L'Abruzzo che vuole decollare da un lato con tutte le sue potenzialità nei vari comparti produttivi con il corollario delle garanzie del Made in Italy e la carenza di infrastrutture dall'altro. Per dirle in maniera chiara, il trasporto di persone e merci soprattutto con il metodo intermodale, cioè con il movimento della stessa unità di carico che utilizza due o più modi di trasporto, favorisce l'insediamento di imprese. Questa mattina D'Alfonso ha tirato fuori le carte della piattaforma logistica di Saletti. Il cantiere non veniva e non viene restituito nella sua compiutezza funzionante. Una compiutezza funzionante al tempo finanziata con 5 milioni e mezzo di masterplan. A un certo punto, per il tempo che è decorso per l'aumento dei prezzi, servono più di un milione di euro. Si è negato il bisogno di questo milione di euro. Si è negata la lamentela da parte della compagnia ferroviaria italiana. E oggi appuriamo che la divisione sangritana di Tua restituisce, assumendolo, il cantiere per la parte di lavori completati. Ma non è completata l'esecuzione dell'originario progetto. Tant'è che ci vuole ancora una cifra superiore a un milione di euro. L'altro progetto che torna utile all'economia del territorio è il completamento dell'area cargo dell'aeroporto d'Abruzzo, tanto per fare un esempio che ad oggi non ha ancora un nuovo direttore. Adesso hanno emesso un nuovo bando con 16 giorni di tempo per reperire il meglio possibile nel mercato delle bravure e delle competenze. C'è proprio l'istantaneo, c'è l'immediatezza di trovare una toppa per il buco che è emerso, un buco che è stato duramente rimbrottato da ENAC. ENAC ha messo in campo corrispondenza documentale e telefonica. E anziché provvedere a risolvere il problema, che fa la Regione? Si lamenta presuntuosamente al telefono, cercando di bloccare le note riferite a questa manchevolezza. Ma non era meglio fare in modo che l'originario bando, quello con 30 giorni, avesse il suo decorso naturale? E poi c'è il contratto di servizio con Trenitalia e un elenco interminabile di adempimenti. La maggior parte è ancora da evadere e la scadenza del 31 dicembre si avvicina. A chiusura, una nota poco rosa sul giro d'Italia. La Regione Abruzzo, con la delibera 208 del 6 aprile, ha assegnato un lauto contributo a comuni e province. Oltre 1.600.000 euro per la sistemazione delle strade. Peccato però che quei soldi non ci sono.